Non si era allenato nei due giorni a porte aperte, ma Madu Canutè è rimasto a riposo per un problema al ginocchio che ha dovuto risolvere con l'intervento chirurgico. L'attaccante dei lupi si è lasciato andare ad un messaggio social che recita Erano tre mesi che solo grazie agli antidolorifici e dalle terapie ho stretto i denti per dare il mio apporto alla squadra. Purtroppo l'epilogo della stagione non è stato quello che sognavo e speravo. Stamattina mi sono sottoposto ad un intervento al menisco del ginocchio destro e grazie al prof Cerulli Sarò pronto per l'inizio della prossima stagione e pronto per il ritiro. Contento di poter iniziare al meglio il prossimo campionato. Parole che non lascerebbero spazio all'interpretazione. Canutè non parla direttamente dell'Avellino restando vago sull'inizio del prossimo campionato, ma le sensazioni sulla sua permanenza sono positive. Uno di quelli che ha trascinato l'Avellino fin quando ha potuto, tirando la carretta e sudando, come si suol dire, sempre la maglia. Tre i gol messi a segno, due decisivi contro Messina e Bari, ma il classe 93 ha saputo anche conquistare il cuore dei tifosi bianco-verdi. Uno di quelli da cui si potrebbe ripartire nella prossima stagione per la sua generosità e la sua duttilità nel reparto avanzato.